Musica Allora abbiamo due missioni secondarie Allora le prenderemo subito Tutte e due Potrei anche prendere la missione principale Che se per caso Si fa andare nella stessa direzione Possiamo fare tutto insieme Vediamo dove ci porta Ok Allora La missione principale ci fa parlare con due personaggi Che sono in cima delle torri E quindi Tutte le missioni ci portano verso nord Mi pare di aver capito Allora partiamo dalle missioni secondarie Dobbiamo parlare con questo personaggio E gli dobbiamo dare un oggetto E fin qua ci siamo Sarebbe già terminata E' una vergogna Sarebbe già terminata Qua c'è una Watchtower Cioè c'è una Torre di guardia Ci sto salendo in cima Con la mia Fenrir Arrivo qui E parlo con quest'altro personaggio Per la missione principale Ce ne sarà un altro Su un'altra torre di guardia Che adesso andrò a scoprire dov'è Mi posso gettare di qua? Sì L'altra torre di guardia Eccola lì L'ho beccata E infatti c'è il PNG in cima Risalgo Risalgo E arrivo fin qui Perfetto E anche la missione principale sarebbe terminata Ma la missione principale termina parlando con un personaggio a nord Quindi probabilmente il gioco ci aiuta A spostarci sempre più Verso Gastrum Meridianum Che in effetti si trova All'estremo nord di questa mappa Abbiamo comunque una missione secondaria In quest'area Funestata anche dalla presenza di alcuni Ariman Abbiamo una destination Proprio qui Io non ho tanta voglia di combattere proprio con tutti Però ovviamente Mi ha visto Allora dobbiamo uccidere questa granata Va bene Qui c'è tra l'altro In questa zona c'è l'entrata Ha una serie di Instance veramente Importanti per la trama del gioco Vedremo più avanti Comunque il nemico l'ho sconfitto Mi allontano Non ho intenzione di combattere contro gli Ariman Neanche contro questo Basilisco Mi porto verso sud Dove avrei Una Questa da chiudere Ovvero una delle due secondarie L'altra secondaria si chiude vicino alla quella principale Quindi Mi troverei poi a fare un viaggio unico per entrambe Niente Mi continuano a vedere dei mostri in zona E mi costringono a muovermi Invece di poter utilizzare il mio veicolo Comunque dopo un po' che corro Posso finalmente utilizzare Ecco qua Sono Quindi molto più veloce adesso Vado quindi a raggiungere L'ultima missioncina che c'è a Camp Blue Fog Poi Mi teleporterò direttamente Nella prossima Zona col cristallone Che è poco più a nord E' inspiegabile sinceramente Perché in quest'area ci siano addirittura due cristalloni Vi faccio vedere nella mappa Ce n'è uno qui sopra Cerulean Processing Plant Che è veramente vicino a dove siamo noi Non c'è quasi motivo Comunque Mi teleporto Faccio prima Anche se vado a spendere dei chill inutili Perché potrei buttare via Mezzo minuto Per arrivarci con La moto Però Vedete Sono già qua Allora Due missioni da chiudere Una Ecco qui da qualche parte Vediamo forse dentro questa Questa struttura Sì Ok E con lui Siamo a posto Gli diamo il braccio di Piros Raccolto appunto Da quella specie di creatura Che abbiamo ucciso poco fa Ci sarebbe un'altra missione livello 49 Che accetto Poi andiamo a chiudere la missione principale Ce ne darà immediatamente un'altra Con ogni probabilità Proprio questo luogo tenente dei flames Ah no che è troppo avanti Io pensavo che fosse quello dietro Ok Ci pigliamo anche questo Pigliamo La nuova missione livello 49 Hearts on Fire Vediamo dove ci spedisce All'Eterite Ok A un metro Rispetto a dove siamo noi C'è Rauban in persona C'è Rauban in persona Che sta parlando con le sue tappe Ci stiamo preparando all'assalto Ok Adesso la missione principale Mi chiede di parlare con tre soldati Che sono in zona Ecco qui questo soldato Devo anche usare Un'emote Che adesso sarà un casino Riuscire a trovare Questa Devo arrabbiarmi Con loro Perché Forse sono Indolenti Sono pigri Un motivo Ce l'avrà Rauban Per mandarmi a sgridare Questi soldati Qui ce ne sarebbero altri due Uno è qui Perfetto Emote Anche questo è a posto Ce n'è uno qui Perfetto È facilissimo Trovarlo E anche con lui Emote Psych Potrei chiudere già la missione principale Potrei anche farlo Perché sono già qua E molto probabilmente La prossima missione Mi sposterà ancora più a nord Quindi magari vado a fare le cose contemporaneamente Anche con lui Devo sgridarlo Va bene E ci pigliamo un anello Altra missione Setting the stage Va bene Sempre di livello 49 Vediamo dove ci manda A nord Perfetto Esattamente quello che pensavo Dobbiamo uccidere Degli imperiali E dei magitech Quindi Uniremo le due missioni Che sono tutte e due Nella stessa zona Andremo a nord Ancora più vicini A Castrum Meridianum A prendere questi Questi nemici Intanto qua Sulla sinistra Dobbiamo portare Una pozione Curativa A questo povero soldato E fin qua Ci siamo Poi Ce n'è uno Poco più avanti Ecco qua Ah questo è proprio A terra Chissà Sì Penso che Lo potremmo aiutare Infatti si alza E se ne va Qua abbiamo un po' Di roba da uccidere Iniziamo Con questo soldato Penso che un soldato Valga l'altro Intanto siamo dentro Un fate Vediamo un po' No Il fate non Coinvolge le creature Che dobbiamo uccidere Quindi Tutto ok Il primo Ci lascia Mi muovo Verso nord Un imperiale Ucciso Qua ce ne sono altri Passo al secondo Ce ne sono Veramente Veramente Tanti In questa zona Ovviamente Siamo A fianco A Castrum Meridianum Ovvio che Abbiamo solo L'imbarazzo Della scelta Per quel che riguarda I soldati E i magitech Quindi Cercherò di essere Rapido Anche perché Voglio anche Chiudere contemporaneamente La missione secondaria Abbiamo ancora Due soldati A cui portare Le pozioni Intanto abbiamo Ucciso Tutti e tre I soldati Adesso possiamo Far fuori Anche i magitech Mi pare che Siano più forti Ma neanche tanto Neanche tanto Perché mi pare Che caschi Abbastanza bene Assolutamente Casca benissimo Passiamo al secondo E quasi quasi Poi mi muovo Verso L'area Dove possiamo Trovare Il soldato ferito Ah no Questa è l'area Dove potremmo Trovare Dei magitech Non è l'area Del soldato ferito Perché l'area Del soldato ferito È in basso È qui È molto più piccola Quella è l'area Di riferimento Per trovare I magitech Che in realtà Poi sono un po' Dappertutto Però Il gioco ha definito Quella L'area Dove compaiono In maniera più probabile Quindi Qui c'è Un altro soldato ferito E poi ce n'è uno A sud est In teoria qua Però Sarà Nascosto dietro queste rocce Vediamo se si può passare Da qua dietro Sì Eccolo qui E anche questa è fatta Ora ci manca Solo un magitech E abbiamo finito Anche la missione principale Vediamo se me ne capita Uno a tiro Al volo Tutta questa zona Tutta questa zona È costellata Di impianti Di distillazione Del ceruleum Che è una sorta di benzina Utile per i magitech Ci si tornerà In questa In quest'area E tornerà E tornerà anche Il discorso Di questo propellente Anche Nella Linea di quest Legata al blue mage Ok Ho terminato Tutte e due le missioni Ma mentre una Ha come riferimento Per concluderla Un soldato All'interno Di questo Accampamento Intanto passa Un giocatore Fortunato Con la sua nuova mount A forma di osma Mentre una missione Si conclude qui dentro L'altra si conclude Ben più avanti Quindi chiudiamo Questa secondaria Abbiamo Dato la pozione Io adesso potrei scegliere Ma si prendo l'eliser Mi hanno dato le pozioni I quattro soldati feriti La missione principale Invece si conclude Praticamente alle porte Di Castro Meridiano Abbiamo avuto Un'altra missione secondaria Che ci chiede Di uccidere due Ariman Approfittiamo Del fatto che siamo Tutto sommato vicini Alla zona Dove si trovano Per andargli a uccidere Sono proprio qui dietro Ci siamo stati poco fa Quindi ricordo molto bene La loro presenza Eccoli Sono quelli che ci hanno Agrato prima E noi non li abbiamo ucciso Perché non ci servivano Adesso ci servono La missione mi chiede Di Letteralmente Prenderne delle corne Devo raccogliere Delle corne Di Ariman Ricordiamo che gli Ariman Hanno un unico enorme Cicantesco occhio E spesso Il loro sguardo Ha dei poteri Simil magici Quindi ci può stare Anche che Sia Un materiale prezioso Le corne Di Ariman Comunque dobbiamo Darle Al personaggio Solito Che ci da tutte queste Missioncine secondarie Ecco qua le due corne Ci pigliamo Un orecchino E direi che Non ci sono Adesso controllo la mappa Non vedo Nessun'altra Missione secondaria Andiamo A chiudere La missione principale La missione principale Quindi ci fa andare Praticamente Alle porte Di Castrum Meridianum Eh si Proprio davanti alle porte Assolutamente Davanti alla porta E proprio davanti alla porta Io guardando la mappa Pensavo che Castrum Meridianum Fosse qui in cima Perché leggevo La parola gate qua Invece no Si trova proprio qua Parliamo con Rauban E' giunto il momento Temo Temo che Non ci sia Granché d'altro Da aspettare Parliamo con Rauban Missione di livello 50 Rock the Castrum Si parla proprio Di Castrum Meridianum E' un instance Sta all'interno Di un paio Di Missioni Che risultano Nel Duty Finder Come Main scenario Adesso poi Vi faccio vedere Accetto la missione Parte un filmato Le mura Di Castrum Meridianum Sembrano solidissime I soldati Di Rauban Sono qua davanti Ma è evidente Che dovremo Impegnarci molto Per poter Superare Questa barriera Arriva anche Minfilia Arriva il Finò E' il momento Di motivare La truppa Sì Abbiamo fatto Un ottimo lavoro A Castrum Orients Castrum Occidents L'operazione Archon E' Un successo Finora Ma manca La parte principale E conclusiva Il grosso Dell'esercito Garleano E' proprio Qua dentro E' il momento Di Concludere Forse Una volta Per tutte La guerra Contro l'impero Il Black Wolf Ovvero Van Bilesar E' Nelle profondità Di questa struttura Minfilia Si Presenta E' il capo Dei Sai Ode Seven Dawn Quindi E' E' una di quelle Persone Di quei Agenti Di pace Che ha cercato Di proteggere I Re Ami Per tutto Questo periodo Ecco Al Finò Al Finò Ci ricorda Che all'interno Di questa struttura C'è l'ultima Weapon Ma noi abbiamo Con noi Il Guerrero della Luce Che ha Le potenzialità Proprio per Le sue caratteristiche Di potersi Confrontare Con una creatura Così Terribile E con dei poteri Così Devastanti Arriva anche Seed Che ci Rincuora A modo suo Minfilia Anche Ci dà la sua Benedizione Possa Il cristallo Benedire Il tuo passo Bene È il momento Per Orzea Sarà così facile Entrare in questa In questa roccaforte Sarà così semplice Aprire questa porta Eccoci signori Il Duty Finder Ci dice Che Castrum Meridianum È adesso Accessibile Andiamo a vedere Il Duty Finder In questo momento qua Ho ancora selezionato Cape Westwind Lo tolgo Vediamo Lo trovo Lo trovo Lo trovo Qui in fondo Castrum Meridianum Livello 50 È la prima missione La prima Instance Livello 50 Guardate L'item level Ce lo spiega Ma ve lo spiego anche io Per partecipare Allora Intanto in alto Vedete L'immagine E poi Una reward Che sarebbero 200 Poetics Ai tempi Questa instance Dava anche Tagli di Tomstone Più alti Cosa sono i Tomstone Sono dei punti Che servono per comprarsi Equip Particolarmente potenti In questo caso Ce ne darebbe 200 Ogni volta che noi facciamo Questo duty Perché così tanti E vi assicuro Sono tanti Perché questo duty È lungo Come la morte Quindi È davvero Davvero Un duty Pesante Da fare Questa cosa Ultimamente È ancora peggiorata Perché ci sono Tantissimi filmati All'interno di questo Di questo duty E questi filmati Adesso Non possono essere Schippati Quindi tutti Se li devono vedere E questo Amplifica Terribilmente La quantità Di minuti Che bisogna Rimanere qui dentro Comunque Il nostro obiettivo È raggiungere Il Praetorium Che è la stanza Più profonda Di questa struttura E Eliminare Ultima Weapon Andiamo più in basso C'è un limite Di tempo Due ore E ci sono Dei requisiti Bisogna entrare Due tank Due healer 4 dps Devono essere Ovviamente Dei combattenti E c'è Un item level L'item level Minimo Per partecipare È 42 Non è il livello Il livello È il 50 E noi siamo Già di livello 53 L'item level Invece È La media Degli equipaggiamenti Che abbiamo addosso E adesso vi faccio vedere Come si fa a calcolare Intanto lo seleziono Si va su character Allora Il mio item level È quella Scritta Vicino a 1 War C'è il simbolo Di un omino Un asterisco In realtà E c'è scritto 64 C'è anche scritto Sopra La testa del mio omino Che è rappresentato Nell'immagine 64 Perché 64 Perché ho la mia AF Che è di livello 90 Questa in realtà Era un'armatura Che ai tempi Si otteneva Soltanto Tramite L'utilizzo Di tombstone Di alto livello Quelli che ai tempi Si chiamavano Tombstone Of Mythology Questi tombstone Ci consentivano L'acquisto Di oggetti Di livello 90 Erano Le armature Più potenti Disponibili All'uscita All'uscita del gioco Si ottengono adesso Arrivando Quindi all'ultima Questi livello 50 Della propria classe Del proprio job Perché vi ho detto Ai tempi c'erano I tombstone Of mythology Perché i tombstone L'assegnazione Dei tombstone Nei vari duty Cambia Col passare Delle patch Man mano Che un duty Diventa più semplice Ci darà sempre Meno tombstone Concettualmente Ci sono tre tagli Di tombstone Vado in currency Li possiamo vedere qua A largo I tombstone Of poetics Che sono Quelli di Ariane Reborn Concettualmente Sono diventati Anche quelli Di Evansworld Quando Evansworld È diventato Obsoleto All'uscita di Stormblood Quindi Tutti gli equipaggiamenti Le cose che si possono Comprare in Ariane Reborn E in Evansworld Sono ottenibili In questo momento Tramite i tombstone Of poetics C'è un massimale Ne possiamo avere 2000 Oltre i 2000 Non li prendiamo più Quindi dobbiamo Spenderli Per poter avere Nuovi slot Perché io ne ho 9 Ne ho 9 Perché ho ucciso Dei rank A Cioè Delle catch E quelli danno Dei poetics Quindi Li ho raccolti Anche prima di arrivare A livello 50 In teoria Si possono ottenere Solo Una volta raggiunto Il livello 50 Quelli sotto Si chiamano Tombstone Of creation E poi quelli sotto Ancora Tombstone Of mendacity E ancora Genesis Non esistono più I creation Sono soltanto Indicati Perché è un taglio Morente Un taglio che è stato Già superato Però qualche giocatore Potrebbe loggare Dopo tanto tempo E trovarsene ancora Per Ancora Fino a In questo momento Io sto registrando Oggi è il 27 Di febbraio Quindi siamo Diciamo È già uscita L'ultima patch 4.5 Di storm Stiamo aspettando La 5.0 Quindi Quando uscirà La 5.0 I tombstone Of creation Saranno eliminati Ma poi Tutti i tombstone Cambieranno Ma normalmente Dopo 6 mesi Vengono eliminati Vengono eliminati Dei tombstone Della Diciamo Della patch precedente In questo momento I Genesis Sono quelli che ci danno Gli oggetti Di livello più alto In assoluto Ma Prima Non dell'ultima patch Ma della patch precedente Erano i mendacity Quelli più alti E così via Ogni 6 mesi Cambia Il taglio Che è più potente Ne aggiungono uno Che diventa quello Più rinomato E quello che era più rinomato Prima Viene declassato A quello Un po' meno rinomato C'è stato quindi Un momento in cui I mendacity Erano i più pregiati E i creation Erano quelli Immediatamente sotto I creation Erano più semplici Da ottenere I mendacity Molto meno Addirittura Gli ultimi Cioè quelli più Richiesti Che sono appunto I Genesis In questo momento Hanno ancora Un limite settimanale Di 450 punti Ma tutte queste cose Che vi sto dicendo Ci interessano relativamente Perché noi siamo A livello 50 E fino a che non siamo A livello 70 Questi tre Ultimi tagli Non ci interessano A noi adesso Interessano i Poetics I Poetics Ci daranno un sacco Di interessanti oggetti Addirittura Oggetti di livello 120 Che paragonati Ai nostri Livello 90 Sono Oro Oro Ovviamente Non ce ne basteranno 200 Per comprare Degli equipaggiamenti seri Dovremo fare Qualche cosa in più Per poterci permettere Delle armature Delle armi Di livello 120 Ma piano piano Ci lavoreremo Anche perché Avremo un sacco Un'infinità Di dungeon E Instance varie Per poter raccogliere Questi Poetics Quindi Ne faremo Assolutamente Man bassa Oltretutto Facendo i Duty Per la prima volta Ci arriva Un bonus In termini di Poetics Quindi ne prenderemo Anche di più Ma non solo Se Noi l'abbiamo già fatto Un Duty E un altro Giocatore E la prima volta Che lo fa Anche noi Prenderemo il bonus Quindi Accumuleremo Un sacco Di Poetics E man mano Che li raccoglieremo Ci costruiremo L'armatura Di livello 120 Upgradabile Poi Ve lo spiegherò Perché è una cosa Ormai Abbiamo parlato Già di tutte queste cose Da 20 minuti Ve lo racconterò Quando ci arriveremo La possibilità Di upgradare Questi oggetti Comunque Mi pare che In questo momento In Arian Reborn Il massimo Che si poteva ottenere Era Mi pare 130 Mi pare 130 Di livello E poi Si Passava A Evansworld In Arian In Arian In Arian In Arian In Arian In Aria 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 In A